ethereum in piena supply shock da analisi dati on chain parliamo di bitcoin seconda analisi week 34 benvenuto e benvenuta a casa benvenuto albi un abbraccio benvenuto a te ivan un abbraccio benissimo e quindi eccoci qua andiamo a vedere abbiamo parlato nelle settimane mesi precedenti si è non si sta si è manifestata iniziato a manifestarsi nel prezzo per bitcoin adesso c'è una supply shock visibile sui dati on chain dall'analisi dati on chain violenta veramente molto più importante di quella che ha avuto ed è tuttora in corso per il bitcoin quindi andiamo a vedere e ragioniamo assieme quali possono essere le implicazioni vediamo cosa sta accadendo appunto alla block chain ethereum e vediamo anche se bitcoin permetterà questa cosa qua con un'interessante metrica fornita da un grande esperto del mondo del mondo cripto valute bitcoin andiamo a prendere un collega olandese in questo caso olandese esatto detto questo schiacciaci un like contribuisci al canale se il contenuto il video che vedrai che stai vedendo ti piace dai una mano a noi quindi ti ringraziamo e dai una mano a tutta la community italiana internazionale bitcoin cripto valute blockchain perché contribuisci all'algoritmo di youtube nel far vedere a sempre più persone anche magari a chi non è interessato al momento ma lo sarà in futuro o può imparare cose nuove dai nostri video dai video dei colleghi italiani colleghi tutti nella community detto questo andiamo a vedere molto rapidamente cosa è accaduto al mondo delle cripto valute in generale velocemente vediamo nelle ultime 24 ore anche nell'ultima ora cosa cosa sta accadendo bitcoin negativo ultime 24 ore e tuttora ethereum anche cardano ha ripreso la sua la sua corsa verso l'alto nelle ultime 24 ore un 5,2 per cento era sceso al di sotto dei due dollari è ritornato sopra binance coin sta performando bene ripple la maggior parte stiamo vedendo è positivo per quel che riguarda altre al coin solana è la grande regina delle ultime settimane buttato fuori unisop dalle prime dieci esatto esatto ha buttato fuori unisop è passato l'undicesimo posto tutti stanno parlando di solana come del della blockchain del futuro anzi del presente perché in realtà si sta già facendo tanto si 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 performerà ancora tanto così come ha fatto o siamo arrivati a un a un tetto questa è una domanda che ci stiamo chiedendo tutti ed è interessante valutare nel prossimo tempo terra incredibile il non gli interessa proprio cosa fa bitcoin pazzesche esatto e avalanche anche è ripartita proprio proprio ieri ripartita bene in realtà comunque ha fatto una settimana molto 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 valida doppiata per cento esatto tutte atom cosmos tutte le chain alternative sono sotto kusama a corso negli ultimi giorni adesso nei prossimi farò una bella accelerata anche kusama esatto esatto anche perché polkadot kusama sono rimaste un pochettino più indietro rispetto alle performance che hanno fatto a inizio anno quindi onestamente mi aspetto che possano performare tanto da qui in avanti near protocol ocean sono tutte sono tutte in però bisogna vedere se la dominance permetterà questa cosa perché adesso il bitcoin ma lo vediamo meglio nell'analisi tecnica tra tra pochi minuti con con ivan partiamo dal de king partiamo ovviamente con il daily settimanale cambiato poco rispetto ti interrompo e poi vediamo la parte dopo l'analisi tecnica andiamo a vedere la parte dati on chain e da lì vediamo la supply shock per per ethereum e tutta una serie di dati fondamentali on chain appunto di cui abbiamo parlato scusa interruzione no no vai vai allora btc ha fatto sta facendo più o meno la stessa cosa che aveva fatto dopo questo primo run aveva avuto uno due tre quattro giorni di presa di fiato sta facendo un po la stessa cosa questo è il quarto giorno sia oggi che ieri le candele le 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 segne in verde però la candela di ieri è una candela non non perfetta per quanto riguarda per essere rimangiata praticamente in serata tutto il guadagno che aveva fatto durante il giorno si è riportata al di sotto dalla duecento giorni giorni moving average quindi media mobile che troviamo intorno ai 45.5 io adesso non l'ho aggiornato che si muove giornalmente però siamo al di sotto stamattina abbiamo toccato un nuovo minimo a 43.955 ha recuperato praticamente quasi tutto in questo momento siamo siamo lì però dipende potrebbe come abbiamo detto noi ha perso questo supporto a 45.153 che è questo minimo te lo ricordi l'abbiamo visto questo minimo era meglio rimanerci sopra e avevamo detto sia settimana scorsa che questa settimana lunedì e martedì se andiamo al di sotto di questo livello molto probabilmente ci avviciniamo a questa zona di di supporto quindi la troviamo intorno ai 42 potrebbe essere che questa sia la traiettoria che sta percorrendo adesso bitcoin nel giornaliero per poi recuperare forza e partire vediamo anche ethereum prima di vedere la la dominance ethereum ha seguito anche lui quello che ha fatto bitcoin si è fermato in questa zona 3.300 3.400 è ritornato immediatamente sotto sta lottando con questo primo supporto anche qui stessa cosa che abbiamo detto martedì e settimana scorsa questo supporto in realtà non è un forte 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 supporto questo diventa più interessante quindi tra i 2008 2009 e dove ethereum secondo me verrà comprato con più forza anche se fa fatica a perdere i 3.000 per fortuna non riesce a scendere sotto i 3.000 ovvero scende e viene richiamato immediatamente prima di passare alla dominance facciamo quello che abbiamo fatto poi martedì che è piaciuto tantissimo il nostro sponsor ovviamente ha messo a disposizione degli altri buoni che cosa stiamo facendo tra pochi secondi apparirà sullo schermo un buono un buono del valore di 0,005 btc ovvero 220 230 dollari circa è valido per una persona per la persona più veloce che cosa bisogna fare qui sotto trovi un link per registrarsi se sei già registrato meglio ancora perché puoi accedere direttamente al tuo account e andare inserire subito il bonus e la prima persona che con velocità prende questo bonus e lo e lo attiva bene avrà nel proprio conto prime xbt 220 230 dollari per provare e testare la piattaforma quindi alberto 321 con prime xbt avrai la possibilità di fare trading su criptovalute forex indici azionari inoltre potrai seguire centinaia di traders esperti con l'opzione interessantissima del covesting è molto semplice apri un account dal link che trovi qui sotto in descrizione fai un deposito e ottieni il 50 per cento di bonus utilizzando il codice crypto learners 50 segui il nostro tutorial che ti spiega come seguire le strategie di altri scegli il tuo favorito siediti comodo e guarda il tuo account crescere oppure registrati dal nostro link fai un deposito approfitta o del 50 per cento di bonus sul deposito o del 50 per cento di sconto sulle fee per i primi sette giorni usando albi e ivan 50 non aspettare un secondo in più scegli se essere tu il trader o seguirne altri tutti i link e i codici bonus in descrizione ringraziamo prime xbt per sponsorizzare parliamo di bitcoin ed eccolo la volta scorsa martedì sono stati velocissimi tre minuti dopo che avevamo pubblicato il video l'avevano già l'avevano già preso rn 7 z lo puoi copiare incollare quello che vi consigliamo per perché andremo avanti per una quindicina di giorni con questi regali registrati oggi stesso così la prossima volta devi solamente copiare incollare il codice anziché fare il processo di registrazione andiamo alla dominance la dominance è bloccata albi si è bloccata su questo primo livello di supporto che noi avevamo disegnato io l'ho messo arancione l'ho messo rosso però possiamo mettere anche come supporto e ogni volta che va al di sotto viene immediatamente ricomprato in questo momento siamo al 44.33 per cento di dominance e come diceva giustamente alberto prima vediamo come reagiscono queste chain no parallele quando se la dominance gli permette di continuare a correre perché un bitcoin forte te lo ricordiamo sempre solitamente ha le altcoin e quindi la gran parte della coin che seguono l'altro giorno avevamo dei commenti che dicevano che non si può più paragonare non è più come una volta verissimo una volta era bitcoin giù dominan su tutte 99.9 per cento le altcoin che andavano verso il basso oggi non è più così c'è una piccola percentuale di altcoin che va per la sua strada esempio solana avalanche ne abbiamo viste terra e tante altre però la gran parte nel momento in cui la dominance è forte vanno verso il basso quindi seguiamo che cosa farà perché se da qui riprende va verso l'alto le altcoin seguiranno quindi ethereum e poi tutte le altre io passerei all'argomento principale della della puntata albi che fammi vedere questa supply shock di ethereum voglio sono curioso mi ricordo che eravamo intorno al 14 per cento sugli exchange l'ultima volta che l'abbiamo vista esatto allora andiamo a vedere un pochettino di analisi dati on chain fondamentali on chain partiamo per arrivare appunto a capire in che situazione è ethereum partiamo prima un attimo dal nostro the king bitcoin allora negli ultimi mesi abbiamo tenuto d'occhio l'ash rate quindi la potenza di calcolo del network perché ripetiamo l'aveva toccato un un bottom quindi un punto più basso locale che non sapevamo il 27 giugno se fosse effettivamente il punto più basso ci aspettavamo che potesse essere quello e tutto ce l'ha confermato questo è estremamente positiva come cosa e di fatti come possiamo vedere dal punto più basso toccato il 27 giugno c'è stata una costante e in esso inesorabile ripresa quindi vuol dire che i miners tra virgolette scappati via dalla cina si sono impiantati si stanno impiantando in altre parti del mondo stanno accendendo il loro hardware e ricominciando a fare mining quindi a validare le transazioni ovviamente ha delle oscillazioni giornaliere questa non è una media mobile proprio il il dato grezzo giornaliero ogni giorno ci sono delle variazioni ma l'importante il trend il trend è comunque in in netta ripresa se ti ricordi se ci hai seguito avevamo parlato tra giugno e luglio che prima di metà agosto non avremmo visto un una ripresa buona di questo trend e di fatti siamo arrivati a metà agosto e abbiamo appunto queste conferme per arrivare ai massimi storici probabilmente ci arriveremo intorno a metà settembre quello che mi aspetto è tra settembre ottobre di toccare nuovi massimi ricordiamolo quando abbiamo un all time i del del hash rate spesso e volentieri abbiamo anche in contemporanea anche un all time i del prezzo del bitcoin quindi andiamo a vedere questa cosa poi passiamo invece alle alla supply quindi andiamo a vedere apro e chiudo una parentesi albi intanto che va alla supply per la prima volta nella storia il più grosso miners non è più cinese ma è statunitense questa è una cosa che a tanti sta dando confidenza perché prima c'era questo monopolio dei primi 3 4 che erano solo in cina 12 per cento 13 per cento di dei del e nello stato l'avevo letto ieri non mi ricordo comunque americano sicuramente sì americano ho letto anch'io la notizia il scusa mi è venuto in mente intanto che parlavi di hash rate stiamo parlando proprio di quello ok perché nei mesi settimane e mesi precedenti abbiamo parlato di shock supply o crisi di liquidità da parte del bitcoin e ora lo andiamo a vedere per quel che riguarda ethereum tra l'altro nella newsletter settimanale ai nostri abbonati proprio negli ultimi due settimane abbiamo messo l'accento volutamente proprio su ethereum quindi quello che ti stiamo riportando anche a te oggi e lo vediamo proprio con i dati aggiornati di oggi allora trend da febbraio difatti abbiamo iniziato a parlare intorno a febbraio marzo di questo è febbraio del dello scorso anno poi comunque abbiamo parlato pesantemente di shock supply già da inizio di quest'anno per quel che riguarda il bitcoin e difatti il trend è stato in continua costante calo siamo arrivati a un minimo del 13.19 per cento di bitcoin presenti sugli exchange gli exchange ricordiamo è dove fondamentalmente si fa il prezzo del con la liquidità che c'è sugli exchange ci fa il prezzo tra domanda e offerta del nostro bitcoin o di qualsiasi altro cripto voluto poi c'è stata un'inversione di questo trend che poi ha portato quindi sono arrivati bitcoin sugli exchange per essere venduti e lo abbiamo visto nel prezzo toccando un massimo di presenza di supply quindi di liquidità sugli exchange al 13 87 per cento 13 90 quindi eccolo qua 13 94 il 31 maggio da qua il trend ha ricominciato la sua discesa fino ad avere proprio un una fuoriuscita qui tra il 26 luglio e il 29 luglio e lo si è visto poi chiaramente dal prezzo e in questo momento abbiamo una presenza intorno al 13 24 per cento comunque il trend è di continuazione di questa crisi di liquidità sugli exchange quindi non ne sono entrati di nuovi in questi giorni albi che vediamo un piccolo storno nel prezzo ok ragionando in termini di analisi tecniche o comunque di quello che sta accadendo è fisiologico questo storno e anche come dicevamo nella puntata precedente ci sono dei livelli target di correzione del bitcoin che molto probabilmente potrebbero andare sani fino al 41 42 mila dollari per il bitcoin i 3000 di ethereum o addirittura potrebbe scendere ancora un pochettino di più ethereum senza dare grossi problemi dipende poi sempre molto da quello che fa bitcoin ecco perché stiamo collegando anche nei dati un chain bitcoin e ethereum e anche per vedere la differenza in termini di supply shock quindi per ethereum andiamo adesso ad ethereum proprio quindi vediamo questo esatto dato riportato però su ethereum ci possiamo rendere conto del trend molto più continuo continuo e addirittura violento in questa parte a partire da giugno 26 giugno 25 26 giugno a oggi questa supply shock è veramente importante dall'arrivo di london albi no giugno luglio agosto scusa prima 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 dal 26 giugno però insomma si aspettava london ed era proprio nell'aria quindi possiamo parlare di london quindi 14,96 per cento di ethereum presenti sugli exchange in questo momento siamo a un 13 per cento quindi addirittura meno se ti ricordi i dati precedenti per bitcoin era 13 qualche cosa ci sono meno ethereum sugli exchange che non bitcoin attenzione questa è veramente una crisi di liquidità supply shock molto importante e questo è un un sentiment un qualcosa che fa presagire ovvio no financial advice ma da cui alle prossime settimane barra mesi ha un potenziale rialzo anche violento per ethereum dato da questo è vero che ci può essere sempre magari tra una settimana c'è un'inversione di trend e quindi arrivano ethereum sugli exchange ci vuole sempre una motivazione cioè non è che se i dati fondamentali sono questi il quello che sta accadendo sulla block chain ethereum defy gaming block chain parallele che non sono delle ethereum killer ma sono delle friendly ethereum uses quindi hanno sempre dei bridge per poter collaborare e comunicare con ethereum quindi questo potenzia loro e potenzia ethereum completamente contrario dal 2017 esatto nft tutto quello che sta accadendo perché devono piovere ethereum sugli exchange per essere venduti cioè deve accadere qualcosa può sembra accadere ovvio è chiaro qualcosa di veramente grave o importante che mi giustifichi questo ma in termini di dati di analisi dei dati questo è il trend che si va ad aggiungere a qui lo vediamo da ultra sound of money uh 63 mila i 63 mila e 664 664 ethereum bruciati in termini di gas fee che stanno costantemente aumentando siamo a un ritmo di 3.19 ethereum al minuto bruciati come dice sempre ivan interessante andare a vedere chi contribuisce a fare questa cosa cioè dove ci sono più transazioni open sea nft 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 exchange decentralizzato epiland axe infinity gaming uniswap la versione 3 metamask stable coin altro one inch altro deck provo a mettere il massimo albi all sempre open sea open sea terza ax infinity e uniswap seconda quasi il doppio è open sea rispetto a uniswap burning e di fatti nell'ultimo mese la narrativa è quasi esclusivamente sugli nft gaming anche molto importante ma nft veramente quello di cui tutti stanno parlando a proposito ti rubo ti rubo un'altra volta la parola a proposito se ci stai seguendo e sei un esperto sai creare nft e magari anche disegnarli lasciaci un messaggio qua sotto che stiamo abbiamo un bel progetto in testa per questa questo autunno autunno inverno li lasciaci il tuo nome ti abbiamo contattato alcune persone ci hanno già scritto non cercando un profilo particolare quindi lasciaci il tuo nome qua sotto se vuoi lanciarti in questo progetto con crypto learners scusami poi oltre a quello andiamo a vedere anche cosa sta accadendo in termini di ethereum che vengono tolti dalla blockchain tradizionale vengono messi sulla beacon chain quindi vengono completamente tolti dalla liquidità senza possibilità di ritorno se non quando si passerà ethereum 2.0 trend in continuo costante aumento che ha avuto addirittura un picco di aumento negli ultimi giorni tra il 17 e il 18 ricordiamolo andiamo a vedere proprio il dato 6 milioni 838 mila ethereum che sono fuori dal mercato contribuiscono alla allo shock di supply alla crisi di liquidità per ethereum quindi aggiungi questa cosa qua aggiungi tutto quello che sta accadendo su che è una continuazione di quello che ormai da un anno che accade defy e compagnia bella nft gaming eccetera la fuoriuscita dagli exchange in maniera molto rapida di ethereum ragazzi ditemi voi io mi aspetto uno spike di prezzo molto importante nelle prossime settimane magari prossime mesi ma nei prossimi mesi e qui ti consiglio di andare a vedere alcuni video che abbiamo fatto sul nostro canale su ethereum abbiamo parlato anche di ethereum a 30 29 32 mila cosa del genere analizzando le ovviamente opportune motivazioni semplicemente andando a paragonare quello che è accaduto in passato con con bitcoin in comparazione con ethereum no financial advice non possiamo sapere quando questo accadrà però sono cose possibilissime che possono accadere detto questo andiamo a vedere però se bitcoin permetterà questa cosa perché volente o nolente al di là di quello che sta accadendo in questi giorni dove ci sono degli altcoin quindi blockchain alternative con solana che stanno performando in maniera pazzesca mentre bitcoin storna o è fermo e la stessa ethereum però in generale sul medio periodo se il bitcoin non va su è veramente difficile che ethereum performi in maniera molto importante può fare delle piccole performance contrarie ma non per tanto tempo ci avvaliamo di una metrica bellissima elaborato da charles edwards di di un importante società olandese di gestione dati questo è molto interessante perché qui ci fa vedere come ci è già parlato tanto di un potenziale 2013 simile a 2021 però lo vediamo proprio con delle metriche on chain lui analizza il bitcoin unrealized profit and loss che è un rapporto che che impiega praticamente quante transazioni sono in attivo rispetto adesso non entro nel nel dettaglio della metrica interessa più graficamente in questo momento interessante vedere che questo dato qua che lo 0,5 ogni volta che questa questa metrica che in realtà non è nient'altro che il nupol il net unrealized profit and loss che è un che è un dato on chain lo possiamo vedere anche da qua per quel che riguarda adesso siamo su bitcoin lo possiamo vedere anche da qua è semplicemente una rappresentazione grafica differente da quella che ha fatto chars un attimo quindi per chi ha comunque glass node lo può lo può vedere anche nella versione gratuita eccolo qua il livello 0,5 questo adesso siamo ben al di sopra di di questo 0,5 abbiamo recuperato quanto è 0,57 abbiamo recuperato dopo essere andati al di sotto ma torniamo sul sul ciografico perché molto interessante la comprensione che ci può far avere ok praticamente cosa dice ogni volta che il prezzo scende al di sotto del 0,5 siamo in una fase di storno o di potenziale bear market nel momento in cui ritorna il prezzo al di sopra di 0,5 almeno storicamente è ripartito un bull market molto importante qui lo vediamo nel 2017 poi dopo il nupol unrealized profit and loss è rimasto al di sopra e tutti sappiamo quello che è accaduto da settembre ma agosto anche di del 2017 quindi con un bitcoin fra i mila dollari ed è arrivato a 20 mila poi una volta che scende quindi qua 2018 nel momento in cui non è in grado di ritornare sopra lo 0,5 siamo in pieno bear market finito sono finiti i giochi in termini di di trend in crescita fino a che non non completa lo storno come vediamo qua e poi dopo ritorna al di sopra quindi 2018 è accaduto questo 2014 è accaduta la stessa identica cosa ma vediamo cosa è accaduto adesso siamo adatti al di sotto siamo tornati al di sopra e siamo al di sopra quindi abbiamo visto prima 0,57 nei precedenti bear market questa cosa non era mai accaduta o meglio quando era cioè aveva toccato lo 0,5 ma c'era tornato subito sotto il famoso dead cat bounce o gatto morto bravissimo bravissimo esatto il famoso dead cat bounce allora non siamo ancora fuori completamente fuori pericolo perché 0,57 può invertire se questo storno continua in maniera pesante non me lo aspetto da quello che stiamo vedendo però sempre tutto può cadere chiaro quindi vedremo bene meglio questa questa conferma tra la fine di agosto e il mese di settembre però mi dà mi dà una grandissima chance di continuazione questa è solo una delle tante metriche che abbiamo fatto vedere che possiamo analizzare però la vedo molto importante la cosa bella è che completamente paragonabile a quello che è accaduto qua nel 2013 torno importante il nupole è andato al di sopra di 0,5 ci è rimasto e poi sono arrivati fuochi d'artificio salti mortali e tutti sappiamo quello che è accaduto meglio non tutti l'abbiamo vissuto però graficamente possiamo vedere quello che è accaduto a fine 2014 non sappiamo se quello che accadrà a fine 2021 2022 però se questa cosa rimane confermata ecco che mi si innesca tutto quello che abbiamo visto per la shock supply di ethereum che è ripeto da pelle d'oca rispetto alla shock supply di bitcoin una cosa albinotto che non è mai nel bear market del 2015 15 16 e quello del 2018 non è mai andato sopra il 50 lo 0 5 scusa dove ci sono le frecce rosse c'è arrivato sotto ma non è che è andato sopra e poi è tornato sotto allora con guardando la rappresentazione su su glass node nel 2018 c'è stato un picco dove è andato sopra eccolo eccolo aspetta il prezzo qua che è stato quello lì piccolino piccolino è arrivato a 0 45 e poi ha corretto subito poi nulla nulla ci vieta che possa essere arrivato a reggere anche quello questo momento a 0 57 mi pare che ha fatto 0 57 abbiamo visto prima 0 57 mi torni indietro storicamente non è accaduto che arrivi a 0 57 torni indietro in pieno bull market lasciamo stare questa parte qua che qui era pre alving quindi pre alving fino a oggi non non si è mai parlato di bull market si è sempre parlato di bull market confermato e forte dopo l'alving quindi a partire da 2020 qua era l'anno scorso maggio sì esatto e invece era stato mi pare luglio del 2016 10 luglio sì sì quindi molto molto interessante bello questo da tenere controllato da tenere controllato come se poi va nella zona nella zona blu che quello è un allarme un campanello per un possibile poi top giusto ovviamente queste sono due rappresentazioni grafiche differenti da da qui da quella dalla grafica che ha che ha elaborato punto chars in realtà non è neanche andato al di sopra ci vale la pena non vale la pena comparare col con quello che abbiamo visto noi su glass node e questo è molto importante questa cosa ma lo vedo è una è una tranquillità che che ci può dare il mercato in questo momento ripeto è da confermare nelle prossime settimane però bello anche questo albin di dato ce ne sono centomila di dati on chain da tenere da tenere in considerazione però questo qua è importante per sapere che cosa ci aspetta nel medio no se siamo ancora in corsa o o se invece abbiamo già finito perché questo potrebbe sembrare quello che ha fatto anche nel 2013 il classico gatto morto e poi da qua si riscende un'altra volta però non so vediamo vediamo tutto può cambiare da una settimana all'altra ecco perché è importantissima fondamentale monitorare costantemente tutti questi dati per avere conferme settimana per settimana ovviamente non possiamo dire oggi quello che accadrà nei prossimi mesi possiamo farci delle idee sull'elaborazione dei dati che poi vanno sempre controllate confermate ecco perché puntiamo sempre il dito sulla nostra newsletter infatti trovi il link sotto dove c'è la parte analisi tecnica curata da Ivan la parte dati on chain curata da me non è che una parte sia migliore o peggiore dell'altra o uno utilizza una utilizza l'altra vanno combinata noi facciamo questa cosa combinata i nostri sottoscrittori i nostri followers che combinano queste cose sono stati in grado nelle settimane precedenti di cogliere un potenziale minimo intorno ai 30 32 mila dollari combinando analisi tecnica che era negativa diceva una cosa di scendere ancora al di sotto analisi on chain che invece vedeva una liquidity supply una shock supply per il bitcoin importante e storicamente non era mai accaduto che con una shock supply così il prezzo avesse continuato a scendere noi personalmente abbiamo creato le nostre strategie e non ci abbiamo messo il cento per cento di quello che stiamo gestendo ma abbiamo iniziato ad entrare in maniera sempre più importante quindi questo ha permesso di cogliere ottimi risultati e chi ci segue ha potuto fare la stessa cosa assolutamente sì ce ne sono due o tre che hanno fatto ha preso risultati incredibili proprio i minimi benissimo grande 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 mi piace questa sessione dati on chain live così raccontandola sabato andiamo live albi sabato andiamo live sabato andiamo live 15 e 15 quindi avvisa gli amici delle barche in fianco gli amici del della tenda in fianco sabato pomeriggio 15 e 15 siamo siamo live con le vostre domande e con le vostre risposte dopo la classica analisi grazie mille albi questo dato è veramente interessantissimo da tenere controllato nelle prossime settimane ci vediamo sabato ti mandiamo un abbraccio metti un bell'icone commenta qua sotto e condividi questo video con le persone che secondo te sono interessate a conoscere questi dati buon fine settimana no ci vediamo sabato buon giovedì a sto punto da alberto e ivan di criptolens ciao ciao